i disastri in mani cerchio e seno manifestazione e messaggi dall'aldilà attraverso nt raggio ciò che incombe su di voi in questo scorcio di secolo è tremendo e non vi sono espressioni adeguate per farvi capire ciò che aspetta l'umanità ma ciò non è inevitabile e noi tutti preghiamo insieme a coloro che pregano affinché ciò non avvenga e non perché noi si possa soffrire per il dolore che tali eventi causeranno perché il dolore riscatto redenzione liberazione ma perché se ciò non avviene significherà che l'umanità avrà operato secondo il giusto percorso e verso una ulteriore meta intermedia dell'evoluzione ricordate il dolore la sofferenza i disastri in mani le tragedie umane sono nell'ordine naturale delle cose degli eventi delle vie brevi verso l'evoluzione e non pensate nemmeno per un solo istante che ciò sia segno di collera divina non pensate neppure per un solo istante che l'onipotente possa rivolgere il dito accusatore verso creatore incarnate segnate da un lacerante destino egli fonte ineguagliabile di bontà sorgente inesauribile di amore non potrebbe e non può colpire nessuno e conoscere collera in quanto volontà di punire collera sono sentimenti del mondo della relatività cioè del mondo umano perciò non è ineluttabile il verificarsi di tanto dolore per l'umanità in quanto il grande sé esiste e per grande sé intendiamo il condizionale che sta ad indicare la possibilità di evitare indipendenza della capacità dell'umanità ad evitare eventi dilanianti che l'attendono siamo nel 1999 tanti insegnamenti e tanti aiuti offerti a tanti esseri incarnati sono i mezzi offerti a voi tutti perché questa triste tappa possa essere evitata attraverso la capacità a trarre da tali aiuti il giusto profitto continuamente vengono da noi tese le mani e quando sono afferrate l'umanità viene sollevata da pesanti catene e molti individui incarnati traggono profitto da questi aiuti e molti altri ancora che sono già proiettati verso il bene e l'evoluzione più alta sanno che possono fare molto